Italinia представляет In Italia, nello stabilimento di Matera, le nuove tecnologie si incontrano con la tradizione dell'artigianato italiano. Tutto il ciclo produttivo viene realizzato in sede e l'esclusività del prodotto ha premiato Ego Italiano con numerose presenze su riviste specializzate nazionali e internazionali. Ogni particolare viene realizzato con cura e precisione. Il personale addetto al taglio e alla cucitura è specializzato e competente. Un made in Italy, fatto da italiani. Macchinari all'avanguardia integrano le fasi di lavorazione che vengono ancora realizzate a mano. Grazie alla collaborazione di 140 artigiani, l'azienda è arrivata a produrre 5.000 sedute in un mese. Un risultato importante, dove qualità, innovazione e design distinguono Ego Italiano sul mercato nazionale e internazionale. Bellissimi divani che da Matera possono raggiungere ogni casa. Alla bellezza delle finiture, all'eleganza delle linee, ai colori caldi e avvolgenti, con dettagli unici e originali, Ego Italiano aggiunge ai propri divani una seduta relax con doppia motorizzazione, per un comfort davvero esclusivo. La continua crescita stilistica e commerciale di Ego Italiano viene testimoniata dalla partecipazione a importanti fiere internazionali, come il Salone del Mobile di Milano, le fiere di Londra, Bruxelles, Malin, Parigi e Singapore, nelle quali l'azienda ha riscosso un grande successo di pubblico e di critica. Ego Italiano, con i suoi 600 rivenditori in Italia, i 400 rivenditori internazionali e 50 agenti, è ormai una realtà significativa nel panorama dell'imprenditoria italiana, pronta a nuove sfide, con prodotti sempre unici e di rara bellezza. Italiano, con i suoi 700 rivenditori internazionali e udpurchase unici e di rara bellezza. Ego Italiano, con i suoi 700 rivenditori internazionali e